Tutto pronto per l'inizio del match in Serie B che vede affrontarsi gli uomini di Capitan Vanzorrentino e Vandalovers contro il Power Rent, rinforzate secondo l'innesto di Daria in extremis Eccolo Daria subito che calcia, la risposta di Santo Paolo Alloca, cerca Marzo, poi palla che rimane lì, ancora Marzo per Daria, Daria tu per tu, Santo Paolo gli chiude lo specchio Daria l'ha sterzata, Daria il nome del mancino, pallone toccato da Santo Paolo in calcio d'angolo Se Giovanni torna mai nella vittima Allora, gioca Marzi si risponda per Daria, Daria, il palleggio, Daria, Daria per il piattone ancora Poi Marzo Pallone alto Ma se la furiamo Se le ripensano tagliare questo pezzo per il giro Poi mi penso si ci ha fatto la giro Qui la buccia di Aprea Regala a Monaco la rete dell'1-0 Si portano in vantaggio i Vandalovers Forse alla prima conclusione del loro mezzo All'occa la regala Di Marino Secondo errore della difesa dei Power Rent Ne approfitta stavolta Di Marino ed è 2-0 Vandalovers Stai da dentro Parisi Da metri 0 si di vuole il gol del pari Ma è sempre meglio tenere una punta Che comunque se tu vuoi recuperare la partita Mettere il punta lì Andrà di cuore Qua mi sono in casa Andrà di cuore che ci sta Andrà di cuore che ci sta Marzo c'è il prone in campo C'è Daria al centro Daria alla finta Daria ancora Si porta il prone sul destro Poi calcia Non trovo lo specchio di pochissimo Tutto destro Rientra Poi calcia sul primo palo In questa conclusione Si chiude il primo tempo Punteggia di 2-0 In favore dei Vandalovers Iniziato il secondo tempo Della match tra Vandalovers E Power Rent In vantaggio i Rossi Per 2-0 Hanno pagato Per loro i difensivi Ragazzi di Parisi Metti contro Alessandra Marco Alessandra Mazzo Contro la dorso Parisi in porta La risposta di Santa Paola Poi sono ribattuta Ci prova Andrea Poi è apposta Passa un po' di Enzo È pure il cane vicino Daria cerca Parisi in 1-2 Occhio Daria Entri in aria Daria Super Santo Paolo Ancora chiudo lo specchio Vai gioca Vai gioca Vai gioca Ci prova Fai il full Santo Paolo Poi esce ancora a valanga Poi Parisi Specchio vuoto Trova la rete Del 2-1 Che riapre i giochi Proprio Capitan Parisi 2-1 E come si vede fosse dentro in campo Scampagnato Pallone dentro Monaco La traversa Il contropiede Parisi 1-1 Vince il rimpallo Poi esce ancora Tanto Paolo a valanga Angolo Perra amato Morto Un uomo Serve il momento dei compagni Poi allarga perra Marzo Marzo può pensare al destro Lo contrae Sorrentino Che poi lo tiene in gioco La regala è il palazzo Poi a Frea Se ne va La scucchiaiata Preggevole per Parisi Che da metri in zero Si divora la rete del pareggio Palla ragazzi Palla Devi fare così Daria Cerca Marzo Che calcia col destro Ancora la risposta di Santo Paolo Poi Daria L'ennesimo numero Daria Allarga per Marzo Marzo dentro Daria Ballone che alla fine entra Arriva il meritato pareggio Di Power Rent con Daria Gol del 2-2 Senza rischi qui Parisi Parisi la finta Parisi col mancino Ancora Santo Paolo Dice no Che Santo Paolo Amici questo oggi Daria Battere il corner Dentro Marzo Palla che sfila Alloca Alloca La rete Del 3-2 Parisi Metteci il pallone Vinci un rimpallo Parisi Parisi Dentro Marzo Arriva il gol Del 4-2 Del 4-2 Su cui si chiude il match La vittoria Di Power Rent Portirone Capiro Ritorno alla vittoria 4-2 Si voleva Daria Tremiamo con la medaglia Allora Parisi Capitano Capitano Ti ringrazio Ma dov'è? Buon dovere No Allora Migliore Grande partita 4-2 La vittoria Una grande vittoria Per voi Quattro 2-0 Non l'avete mai mollato Avete coltato Dopo il finale Se il cortesente Puoi ci mettere Vedi le tivorali Diverse occasioni C'è da dire Ora alla fine Avete passato a casi 3 punti Che mi relancano Un po' Il mio avuto morale Sì Soltanto col morale Perché siamo Di classifica Molto deficitare Però comunque Siamo andati sotto 2-0 Però non meritato Assolutamente Perché loro Alla fine In partita Hanno fatto due tiri Perché noi abbiamo Fatto Siete tiri Sono stati Quello che sono Scasso di vita Ma più tiri Siete E' meritata Nel questo consenso Avete Fatto due errori Di vita Questo manco C'è questo aspetto Che va migliorato Che cerca di ritare Dalla ghi Dobbiamo Rientrare In polvo E ugliare Ancora i meccanismi E poi Consiglio a Nostra Di vedere La partita Bravo Ripeto Avanti Infatti La prossima volta Diremo a Cesare Che la partita È due ore prima Grazie 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 a Dario Un esordio Speriamo di rivederlo presto Grazie anche a me Che sono il miglior Videomaker del torneo Tu non te ne vai No Ti fanno otro video Grazie a tutti